Amici, benvenuti nel Dilullo Show. Salve amici, benvenuti nell'angolo di Francesco Dilullo. Chi è Francesco Dilullo? Modestamente sarei io, ma anche spavaldamente, non c'è dubbio. Bene, sono qui per parlarvi di qualcosa di molto importante. Che cosa? Non lo so nemmeno io. Se lo sapessi ve lo direi. E date che non lo so, non ve lo dico. E arrivò lo zio Enrico. E date che non arrivò, amba la baci ci cocò. Basta, mi sono stufato. Ciao ciao. Allora, sappiate che questo video non è un video serio. È semplicemente una prova tecnica. Che io ho fatto una domenica. Guardate che domenica non lo è. Pane, zuppa e baccalè. Se il baccalè non vi piace, mangiate una bistecca alla braccia. Se la braccia è troppo nera, mangiate una pera. Se la pera è uscita sfatta, mangiate una gatta. Se la gatta non è... come è stibile, mangiate un direggibile. Se il direggibile... basta. Non parliamo di cose serie, ma voi, voi, ci credete al diavolo? Io, sì, ma non me ne frega niente. Bene, da un punto di vista dopaminergico e per di più ultra fantascientifico, vorrei parlarvi della vita dal punto di vista filatelico. Dunque, la vita cos'è? In fondo è la vita che c'è. Ma chiaramente c'è il culo, non vi sembra? Ciao!